L'incidente nella giornata di venerdì 8 dicembre intorno alle 13 sulla strada provinciale 40 che da San Giusto Canavese conduce a Foglizzo. Una Fiat Panda prima serie è condotta da un pensionato uscita di strada e ha terminato la sua corsa ribaltata nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Stura, Montanaro, Rivarolo Canavese, l'ambulanza del soccorso avanzato della Croce Rossa del Settimo Torinese, i carabinieri di Montanaro e di San Giorgio Canavese. Il pensionato che era alla guida è stato estratto dalle lamiere dell'abitacolo e subito affidato al personale sanitario per le prime cure. Non pare in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è il vaglio dei carabinieri di San Giorgio Canavese. Il tratto stradale è stato chiuso dal traffico per permettere le operazioni di soccorso. Grazie a tutti.